Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due in cucina Oh, come ti consueto questa nuova rubrica che vi parla dei pasti più importanti per il gamer Cibo da gaming appunto E oggi andiamo a vedere la colonna portante dell'alimentazione di ogni giocatore che si rispetti Il pranzo Ok, il pranzo, come tutti sappiamo a pranzo abbiamo più tempo per dedicarci in cucina, no? Esatto E proprio per questo c'è bisogno di una cottura finalmente Sì, non più piatti freddi ragazzi Oggi andiamo a vedere una ricetta un po' più complessa che prevede anche la cottura Partiamo con uno dei nostri ingredienti preferiti in assoluto Cioè il latte di capra del discount Assolutamente, questo latte di capra che proprio ha l'aroma di capra Sembra che proprio stai dentro la capra quasi Serve appunto per cuocere la nostra pasta Allora, versate nella pentola Diciamo tutto il contenuto del latte Il gamer non fa la pasta nell'acqua come le persone comuni No, assolutamente Questa la dobbiamo spiegare per gli amici un po' più ignorandelli Esatto Siccome in molti giochi si salta C'è bisogno anche di una certa agilità Il latte di capra vi darà appunto questa feature Oggi facciamo i rigatoni Rigatoni È importante metterli prima della cottura Esatto Cioè prima di mettere tutto a freddo ragazzi Tutto a freddo Mi raccomando non fate cadere roba a terra Esattamente come stiamo facendo noi Ok, perfetto Ok, una volta che abbiamo riempito la padella E riempito ovviamente di latte e rigatoni Dobbiamo andare a cuocere Prima però io direi che possiamo aggiungere qualche piccolo aroma In questo caso possiamo aggiungere sempre a freddo dell'aglio in polvere Hai ragione L'aglio aiuta a tenere alla larga gli avversari Infatti vicino a voi, nella vostra postazione Si creerà diciamo un alone di tranquillità Perché voi saprete di aglio talmente tanto Che tutti si allontaneranno E nessuno avrà l'ardire di sbirciare sul vostro monitor Ok, quindi ragazzi l'aglio è importantissimo Ok, noi abbiamo già proceduto alla cottura Mi raccomando però che durante la cottura Dovete aggiungere degli aromi Come diceva il buon Sinergo Sono delle bustine di tè a seconda della giornata Si, se avete bisogno di mantenere la calma Durante una partita importante Noi vi consigliamo di variare la ricetta Aggiungendo della camomilla anziché il tè Però diciamo che vanno bene Potete anche mettere il tè e camomilla Si, noi abbiamo messo tè verde e camomilla E il tè verde ti agita e la camomilla ti rilassa E quindi hai una specie di effetto placebo Si, si, si Noi abbiamo già proceduto alla cottura E andiamo a togliere la nostra pentola dal fuoco Adesso ragazzi voi non potete vedere Però Redez sta procedendo alla scolatura della pasta Io raccomando scolate sempre per bene Oh, perfetto Scolate ben bene il latte di capra E dopodiché Mettiamo la nostra pasta Insieme a tutti gli aromi Insieme al tè Insieme alla polvere d'aglio In un piatto piuttosto capiente Ok Sembra che la ricetta sia finita qua In realtà no Perché adesso inizia il punto focale di tutta la situazione Allora io prenderei un bicchiere Che ci potrebbe essere utile Per miscelare questi ingredienti Mi raccomando Pesto Stiamo parlando di pesto alla genovese Con tanto aglio Perché è un elemento che va Va riutilizzato nel tempo Allora questo ci servirà dopo Quindi lo spostiamo Prendiamo un bel bicchierone E cominciamo a versare un po' di Quanto è bello questo Potrebbe bastare secondo me Potrebbe bastare Sì Sapete Sa proprio di Ok guardate ragazzi Il pesto è estremamente fresco Dopodiché andiamo ad aggiungere Uno yogurt alla banana Sì E' importante che sia alla banana Perché? Perché deve essere alla banana Glielo vogliamo spiegare? Per andare in culo In maniera più diretta Agli avversari Esatto Questo è importante ragazzi Come vedete Lo yogurt si amalgama bene Io direi che un altro po' Non guasta no? Sì Ok Ok Siccome non avevamo salato La pasta in precedenza E si sa che il gamer Ha bisogno di una pasta Potenzialmente pericolosa Per il fegato Quindi molto salata Che cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere Il solito pugnetto della nonna Ne versiamo un po' qui dentro E un po' direttamente sulla pasta Esattamente così Sì In questo modo la pasta viene ben salata E la rende scrocchiarella Poi quando andate Assolutamente Infatti Quando avete delle otturazioni State molto attenti Perché potreste Potreste brucare Adesso andiamo A Guardate il colore Guardate il colore Guardate che bel colore Facciamo vedere in camera Facciamo vedere in camera La bellezza di questa salsa Di questo sugo Che adesso andiamo a Miscelare Ai nostri rigatoni Senti 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 il profumo Senti il profumo Madonna del camera La pasta Allora facciamo vedere Facciamo vedere bene Guardate quanto è bello questo piatto Guardate quanto è bello Guardate Quanto è bello Stiamo miscelando tutto insieme Insieme al sale Che è il sale che è abbondantissimo Ricordiamo E adesso è arrivato il momento Di aggiungere il nostro ingrediente Io direi I nostri due ingredienti segreti Primo Primo tra tutti Che cosa? Allora io direi Che prima di tutti Possiamo aggiungere un po' di fegato Ok Il fegato deve essere fresco E ben grondante di sangue Vedete quanto sangue? Ok Allora prendiamo un bel fegato Senti che puzza di fegato Questo l'ho preso l'altro giorno Perché al discount era scaduto Quindi L'aroma del fegato è un po' più forte Adesso che dobbiamo fare con il fegato? Allora prima di tutto dobbiamo strizzarlo Così che Tutto Tutto il sangue Vedete Vedete il sangue Esca ben benino E si vada a unire al nostro cibo E poi dobbiamo tagliarlo a pezzettini Bastano pochi pezzi Ragazzi Perché il fegato avendo un sapore molto forte Potrebbe andare a rovinare Quella che è L'aroma delicata di questa salsina Ma noi siamo gamer E a noi non ci importa Che abbia un sapore delicato Ci importano le proteine E i carboidrati Presenti in questa soluzione Un po' più artistica Allora il fegato Come tutti sapete aumenta il coraggio Del videogiocatore Adesso però c'è l'ingrediente speciale Per eccellenza Che va ad aumentare La furbizia del giocatore Sì vai Lo prendo io se vuoi Che le vuole mai impastate Sì sì Prego prego Si tratta di Sterco di volpe Ah sì? Sterco di volpe Quindi Escrementi di volpe Escrementi di volpe Che vanno Sono freschi Sono freschi Perché bisogna catturare La volpe prima Ok? No vè I gamer sicuramente Saranno più a vezze A queste cose Io che ormai Non faccio più parte Mi fa un po' schifo La merda sulle mani Però Noi le andiamo a mettere In questo modo Esatto Perfetto Vedete? Vedete come si amalgama bene La merda Con il Con il piano Guardate che bello Guardate che Che bei colori Guardate che bei colori Peccato ragazzi Che non siete qui A sentire l'odore Delle queste poste qui Sì sicuramente Io direi che È partito il momento Dell'assaggio E questa volta Tocca a te Perché io Ti ben ricordo Che la ricreazione L'ho mangiata io Sei sicuro? No Ma perché oggi Non devo giocare Capito? No ma è importante Far vedere Ok Ragazzi Siamo finalmente arrivati Alla fine del pranzo Speriamo che questa rubrica Vi sia piaciuta Sinergo non vuole parlare E ci vediamo alla prossima Alla fine del pranzo Speriamo alla prossima Speriamo alla prossima Speriamo alla prossima Speriamo alla prossima